Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Spagna sono molti colpi di scena che stanno appassionando i telespettatori, in particolare il riavvicinamento tra Mattias e Beatrice. La ragazza innamorata del giovane, seppur corrisposta, aveva subito il rifiuto di Mattias. Il ragazzo infatti si è dovuto prendere le sue responsabilità con Marcela, una ragazza innamorata di lui e rimasta incinta dopo un ben chiaro incontro. Mattias sposa Marcela con il dolore nel cuore per aver dovuto rinunciare a Beatrice che addirittura cerca in vano di interrompere la cerimonia. Beatrice non rinuncia al suo amore per Mattias e quando si incontrano è sempre difficile mentire sui loro sentimenti. La passione tra i due è viva, tanto da passare la loro prima volta insieme. La notte d'amore rimarrà impressa nel loro cuore e quando Mattias torna a casa da Marcela, che gli ha preparato una cena a lume di candela, vorrebbe solo fuggire dalla sua Beatrice.